ciao a tutti eccoci qua benvenuti benvenuti in questa new live benvenuti benvenuti in questa live e allora nel tema della live è la scelta d'amore la scelta d'amore tra il gaslighting e il ghosting intanto saluto la sicily silvia sicily scelta d'amore tra il gaslighting e ghosting vediamo quale scelta d'amore bisogna fare intanto definiamo prima che cos'è il gaslighting e cos'è ghosting dicono le parole il gaslighting è tratto da in realtà il termine nasce da un film un film molto interessante che è un film molto interessante che tratta di un marito diciamo che voleva far passare la moglie per pazza il film si entrava appunto gaslighting voleva far passare la moglie per pazza ciao martina da vienna voleva far passare la moglie per pazza e quindi mi sa che non è arrivata però la notifica perché vedo solo quattro persone collegate quattro persone collegate e quindi mi sa che la notifica youtube non l'ha mandata credo credo vediamo se arriverà la notifica o no ah è arrivata la notifica a noi verranno anche le persone si spera ma la notifica di youtube ma baghera com'è che ti chiami di nome baghera non mi ricordo mai quindi gaslighting era il titolo il titolo il titolo di un film in cui c'è anche la canetti sitz platz platz sitz a tra l'altro c'è la canetti adesso me la faccio io perché mi sa che c'è il mio rap il mio rap così così lo faccio dopo faccio il rap faccio il rap faccio faccio il rap perché se aspetto stefano gatto che tra una malga show nell'altra tra una carampana e l'altra non fa un cazzo stefano gatto e mi dice che fa mi toccherà farmelo da solo faccio il rap c'è 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 lo lo faccio sentire anche ve lo faccio vi faccio sentire dai facciamo una cosa carina visto che siete ancora in pochi vi faccio sentire il mio rap vi faccio sentire il mio rap cioè il rap che è registrato vediamo dove resto qua gatto 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 stefano gatto vi faccio sentire il rap ragazzi e poi diventerà un video e diventerà un video vediamo un po di alzare volume diventerà un video lo faccio risentire diventerà un video diventerà un video ecco qua faremo un video di questo un video un video sul rap della canetti rap della canetti questo questo diventerà un video diventerà un video posso metterlo come sveglia adesso devo capire come si fa mettere come sveglia perché al mattino al mattino mi piace svegliare mi piacerebbe svegliarmi con questo con la mia voce ecco l'estremo narcisismo al mattino al mattino uno inizia bene la mattinata no adesso devo capire veramente come sveglia perché veramente veramente sarebbe la mia sveglia ideale se uno uno inizia così uno che si sveglia il mattino così cosa c'è di meglio cosa c'è di eccolo qua comunque allora vediamo un attimino di entrare dentro subito di venire subito dentro al tema allora il tema è quello della scelta d'amore la scelta d'amore scelta d'amore tra gaslighting e ghosting però allora il gaslighting ecco adriana parato c'è adriana paratore dj di radio z si radio z no no mi sembra radio z una radio interessante devo devi farla passare nella tua radio adriana devi farla passare nella tua radio questa adriana devi farla passare nella tua radio cioè deve deve diventare il best seller il best seller per amando io adriana te la giro se tu la mandi a radio z te la giro subito se la mandi a radio z adriana adesso come si manda sta a fare te la mando te la mando subito ecco inoltre se la sento su radio z veramente veramente diventa una roba inoltre 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 adriana paratore vediamo un po adriana adriana come diceva eccolo qua però non tratto è tra girato e adriana ce l'hai a smissione va bene ok ce l'hai flight l'ho girata se la mandi in radio se la mandi in radio se la mandi in radio facciamo facciamo il boom facciamo il boom altro che facciamo il boom adriana ti do metà dei diritti d'autore va bene va bene va bene dai allora vediamo un attimino qui torniamo seri e torniamo a parlare di anche radio strechi va bene e già in tedesco se tu conosci qualche radio austriaca sit plats la facciamo andare la mandiamo la mandiamo allora bene bene comunque farò anche un video farò anche un video adesso devo trovare qualche foto della canetti faccio un video allora è vero posso iniziare le live con questa intro bravo bravo però mi tocca modificare è una menata mettere la intro ogni volta è una menata sì posso farlo ma qualche video posso farlo iniziare così qualche video lo faccio iniziare così perché la live è una menata cioè io non ho voglia di mettermi lì a editare i video faccio brutali così no quindi allora comunque dai andiamo avanti parliamo un attimino di questo discorso allora il gas is gas lighting è appunto questo questo film molto interessante vedetelo dove parla appunto di un marito che per sbarazzarsi della moglie voleva farla passare per pazza e quindi faceva delle piccole modifiche della casa insomma cercava di farla passare per per matta no quindi il gas lighting è una tecnica che utilizzano i narcisisti perversi per distruggere le persone fondamentalmente distruggere le persone da un punto di vista emotivo perché se tu vieni giudicato pazzo se tu vieni giudicato pazzo non hai possibilità di di superare diciamo come dire le verifiche di realtà non entri in un mondo delirante non aumento in cui tu inizia a credere a una follia siccome c'è un alla tua follia siccome abbiamo siccome abbiamo una caratteristica no della nostra parte logica che deve a tutti i costi giudicare una situazione e ti giudicherai pazzo ti giudicherai folle per per restare dentro diciamo che il giudicarti pazzo è la via d'uscita che trova la tua parte logica per dare una giustificazione ad accettare qualcosa che non sarebbe accettabile quindi per per dire la follia in questo caso è la strada verso la sanità l'unica cosa è è la follia e tra l'altro c'è a dire questo io per chiarità gli psicofarmaci quando servono servono sicuramente però eh è una conclamazione del sintomo no se io non so non sapendo dove dare la testa vado a dargli in farmacia e mi riempio di psicofarmaci automaticamente vado a come dire sancire il fatto che ho qualcosa che non va e questo è un dato di fatto anche è un dato di fatto che è un dato di fatto e allora e quindi il gaslighting è una delle tecniche che utilizzano il i narcisisti e l'exo tra le altre cose e un'altra tecnica usata dai narcisisti e non sono narcisisti e il ghosting il ghosting vuol dire la sparizione spariscono no il ghosting faccio ghost da fantasma sparire e il narcisista utilizza entrambe le tecniche il ghosting e il gaslighting e allora qual è la scelta d'amore dice ma che scelta d'amore devo fare bene la scelta d'amore in questi casi tra ghosting e gaslighting è la scelta d'amore verso se stessi noi dobbiamo fare un atto d'amore verso noi stessi verso noi stessi perché se hai a che fare con delle persone che nei tuoi confronti praticano il gaslighting o il ghosting quindi spariscono o ti cercano di farti passare per folle l'unica scelta d'amore che puoi fare è quella per te stesso e e levarti come dire come dire salpare le ancore come diceva di aero del capitano data astrale e quindi salire sull'enterprise ed andartene a velocità di curvatura 5 è importantissimo questo perché la cosa peggiore ecco la cosa peggiore di aero di bordo data astrale di aero del capitano come era lì di aero del capitano data astrale oggi cosa abbiamo 19 2 16 l'unica 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 eccola qua federica mandi la figlia di non ti preoccupare federica che il blocco è naturale in questi casi poi si sbloccherà da solo ma tu attendi fiduciosa e però nel frattempo come dire fatti le tue cose non stare lì a dire sì so già tutto federica ti ha bloccata ma è normale è normale perché se lui crede di vedere vuole vederti e tu non non accetti subito è normale che ti blocchi ma lascialo lascialo nel suo brodo perché libera lui il senso di colpa però intanto tu fatti le tue cose e sì sì lo so già tutto metto tutto mamma federica la tua mamma si preoccupa la nostra amalgasciona alessandra casara che si preoccupa della figlia ma tu fatti le tue cose nel frattempo vedi esci fai e vedrai che si sblocca di sicuro è una risposta naturale che ha dato a chi si sente ferito nell'orgoglio ma tu prendilo come un indicatore di interesse nei tuoi confronti perché se di una persona non te ne frega niente non la blocchi no se una persona non ti interessa perché di bloccarla tu non è che gli facevi stalking che gli mandai 250 messaggi al giorno anzi fatto al contrario quindi quindi ma è questa è una storia diversa baghera sits sits baghera sits plats beh tu non lo sai però questo tu infatti chiarisci l'idea i blocchi va bene ti fai la tua vita vedi cosa ti va magari domani incontri quello giusto guarda che di solito succede questo è federica quando quando un qualcosa si intoppa da una parte si si apre dall'altra e sempre dall'altra magari trovi che ne so veramente veramente la persona che poi è più in in sintonia con te adesso lascia nel suo brodo tu fatti le tue cose però questa è la cosa fondamentale fatti le tue cose è quello comunque un indicatore di interesse e quindi sei tranquilla e stoppa l'intoppo comunque e quindi dicevamo invece ci sono situazioni in cui abbiamo a che fare con delle persone che ci fanno gaslighting e ghosting allora chi e mette chi mette in atto queste tecniche che normalmente sono narcisisti ma non solo narcisisti grazie isabella cancelliere non sono ancora in forma cerchi una fatica guarda per la gentilezza anzi ti do la chiave vai isabella che è una gentilezza così si mette la chiave però c'è qualcosa nell'app che non funziona tanto bene e quindi devo darti la chiave dal dall'iphone a iphone diamo un po' isabella cancellieri diamo un po' isabella cancellieri diamo un po' isabella cancellieri ok l'abbiamo fatto qui riparte e sei adesso abbiamo dato la chiave a isabella allora quindi andiamo avanti con a me non lo dite seizplaz baghera seizplaz andiamo avanti col discorso quindi quindi l'unica scelta d'amore che noi che noi possiamo fare l'unica scelta d'amore che noi possiamo fare è quella verso noi stessi in questi casi cosa vuol dire fare una scelta d'amore verso noi stessi renderci conto del fatto che ci sono alcune persone che vanno tassativamente eliminate dalla nostra vita perché rappresentano rappresentano un come dire un veleno un inquinamento rappresentano un inquinamento della nostra anima non perché queste persone siano negativi in assoluto io non credo che esista una negatività in assoluto ognuno ha fatto le sue esperienze quindi la negatività in assoluto non esiste però esiste la negatività relativa sono negative per noi d'altra parte è evidente come dire come ci sono le intolleranze alimentari e come ci sono le allergie e come ci sono gli shock anafilattici non è che tutti hanno lo stesso shock anafilattico per tutte le persone no, ci sono quelli che o per tutte le medicine però quelle ho trasmesso il raffreddore via web Alessandro Papa il virus il virus via web è solo una pantera ma come ti chiami Baghera? Baghera la pantera comunque ognuno chi è chi è diciamo esatto ci sono alcune persone che vanno eliminate noi dovremmo fare come facciamo le pulizie invernali ecco tra l'altro questa è una cosa è una cosa importante che vale anche lo dico anche la Nefilim Vittoria Vinca Sitz Sitz lo dico anche la Nefilim la faccio sedere perché lei se sta alta in piedi a 2,50 m se noi mettiamo in serie la Nefilim Vittoria Vinca e la Tania Grandi e le dividiamo in due vengono due donne di altezza normale perché la Nefilim è alta a 2,50 m Tania Grandi è alta non arriva se no al metro messi assieme insomma vengono due normali e quindi messi assieme e divisi in due e quindi dobbiamo dire questa cosa qua come io e i capelli di Papella se io e Papella facciamo una cosa di capelli diciamo riusciamo a a fare una cosa normale allora teniamo presente questa cosa qua quindi noi dobbiamo renderci conto che quindi ci sono delle persone che per noi ci generano degli shock anafilattici cioè sono delle persone che non che non funzionano sono delle persone che comunque ci danno una reazione allergica ci danno uno shock anafilattico ci danno una una negatività e quindi dobbiamo avere la forza di eliminare queste persone tra l'altro stavo dicendo è interessante è interessante renderci conto che anche degli oggetti materiali dobbiamo imparare a liberarcene perché se non impariamo a liberarcene se non impariamo a liberarci a eliminare dalla nostra vita se non impariamo a eliminare dalla nostra vita le cose inutili anche materiali se non impariamo a eliminarla a toglierle o a regalarle o a buttarla o a fare quello che si vuole noi resteremo a svilupperemo sempre di più l'attaccamento perché il primo attaccamento nasce proprio dagli oggetti materiali quindi voi domani andate a aprire l'armadio aprire l'armadio e tutto quello che non ha una funzione per voi che non ha funzionato lo prendete e lo buttate via quindi se avete un vestito che sono che ne so due anni che non mettete o lo regalate o lo vendete o lo buttate dovete far così perché tenerlo vi toglie energia vi toglie spazio toglie spazio dalla vostra casa toglie spazio dal vostro armadio ma ma togliendo spazio al vostro armadio cosa succede? che toglie anche spazio alla vostra interiorità toglie anche spazio a voi stessi quindi una cosa interessante da fare è quella di scusate è quella di buttare le cose che non servono buttare le cose che non servono e per buttare le cose che non servono dobbiamo liberarci dobbiamo liberarci andate a aprire l'armadio e guardate l'armadio ma anche oggetti oggetti che non hanno una funzione per voi ma piuttosto un vestito che non usate lo tagliate lo fate diventare uno straccio soprattutto ad esempio chi è che si è sposato il vestito da matrimonio buttatelo via non ha più nessuna funzione per voi chi è stato sposato il vestito del matrimonio che non ha più nessuna funzione per voi va buttato non va tenuto lì va buttato va buttato e vanno diciamo oppure usatelo come straccio se il vostro matrimonio è andato male prendete sto cavolo di vestito bianco lo tagliate e lo usate per pulire il bagno ad esempio lo usate per pulire il bagno lo usate per pulire questo è un atto è un atto simbolico che però ha è un atto simbolico è un atto simbolico che però ha un valore molto forte ma puoi anche venderlo vabbè io l'ho dato vabbè no certo uno può dare in beneficenza poi infatti si può regalare buttare vendere però è importante liberarsi delle cose inutili delle cose inutili della nostra vita perché se noi pensate un po' se voi siete attaccati a oggetti materiali un conto è se un oggetto ha una funzione un conto è se un oggetto ha una funzione perché un oggetto può avere una funzione no? la funzione può essere anche per dire se hai un album di foto vecchie che magari non guardi da 50 anni però può avere una funzione perché ti ricordano delle cose quindi anche la funzione di avere un ricordo ma no baghera 2 euro e 29 grazie baghera baghera la pantera ma no no sembra che siamo qua in chiesa non sono mica in chiesa baghera no no lascia stare allora quindi ecco le cose che non hanno una funzione vanno le cose che non hanno una funzione vanno eliminate vanno completamente eliminate vanno completamente eliminate vanno eliminate dalla nostra vita e vanno eliminate anche diciamo le persone che non hanno più una funzione è brutto dire eliminare le persone ma eliminare non significa buttarle significa non interagire di meno poi in realtà le interazioni diciamo con le persone noi le abbiamo sempre perché non è che puoi eliminare dalla memoria per dire beh se è un padre la persona tossica ecco questo purtroppo si chiama condizione autostatica no se tu hai un padre che è una persona tossica fin tanto che non sei diciamo maggiorenne per forza sei sotto la patria potestà e quindi infatti per questo che i bambini spesso subiscono delle situazioni anche negative perché non è che un bambino di 5 anni 10 anni può andarsene di casa resta sotto la patria potestà ma come dire crescendo a 18 anni deve avere la forza di andarsene deve avere la forza di andarsene quando non è più sotto la patria potestà per forza se fin tanto che non ha la maggiore età ed è soggetto beh se sei più che maggiorenne e il padre è il padre un elemento tossico devi vedere tuo padre come sia come fosse un'altra persona se il figlio del portiere per te è un elemento tossico non è che stai a parlare con il figlio del portiere non gli sfascerai niente ma non starei a parlare con lui se tuo padre tu percepisci che per te è un elemento tossico è una persona adulta tu sei una persona adulta ognuno se ne va per la sua strada come dire ti ha generato sicuramente a livello simbolico sarà sempre presente dentro di te perché non si possono eliminare i genitori che ci hanno generato ma nessuno ti prescrive ma nessuno ti prescrive di dover interagire per forza con lui dovrai interagire secondo la mia etica diciamo così dovrai tornare a interagire quando lui sarà in difficoltà quando sarà anziano quando sarà vecchio secondo me anche se ti ha trattato male da giovane dovrai tornare a interagire perché se tu sei qua che stai scrivendo in questo momento significa che comunque tuo padre non ti ha buttato nel cassonetto dell'immondizia quando sei nata per cui non avendoti buttato nel cassonetto dell'immondizia e quindi nella fase in cui tu non eri autonoma se comunque in qualche modo preso cura di te quando questa persona sarà anziana e non sarà più autosufficiente lì restituisci il come dire il favore tra virgolette che ha fatto quando tu non eri autosufficiente da piccola se c'è la tua madre comunque io ti dico per etica personale per questioni carniche quando un po' un genitore non diventa più auto non è più autosufficiente salutiamo anche Tati ma no ragazzi grazie io ringrazio però non è necessario quindi stavo dicendo io bene Tati spero stia bene anche tu quindi io sto dicendo per una mia etica per una mia etica personale per una mia etica personale quello che intendo per una mia etica personale secondo me quando una persona quando un genitore non è più autosufficiente quando un genitore non sta non sta più bene quando un genitore ha dei problemi di salute bisognerebbe mettere secondo la mia etica da parte tutto quello che è successo prima e trattarlo come una persona bisognosa vedendolo come un modo per diciamo vedendolo come un modo per crearsi un campo di meriti tutto sommato ma invece fin tanto che tu sei una persona adulta e questa persona tuo padre una persona adulta se non c'è quindi due persone adulte autosufficienti due persone adulte autosufficienti se tu lo ritieni una persona negativa non sei obbligata a frequentarlo non sei obbligata a frequentarlo quindi nessuno devi sentirti eticamente diciamo o moralmente costretta a frequentare tuo padre se lui è una persona adulta autosufficienti tu pure potete fare la vostra strada separata perché è veramente importante riuscire a liberarsi a liberarci di tutto quello che diciamo non ha più funzioni per noi o se ha delle funzioni ha solo delle funzioni negative iniziare a farlo simbolicamente con anche quando ad esempio una persona cambia lavoro adesso vedevo tati tati o cambia attività per dire e vuole liberarsi del passato tra virgolette a livello simbolico è a livello a livello simbolico a livello simbolico è importante è importante liberarsi di qualcosa che lo dico a tati non so se senta ancora a tati a livello simbolico tati tati è importante liberarsi di qualcosa che ti ricordava al passato di cui tu vuoi non che non faccia più parte del tuo presente quindi prendere qualcosa un oggetto simbolico e buttarlo buttarlo qualcosa che ti rappresentava in quell'altra situazione lo prendi e lo butti questo questo ti consente di più facilmente di uscire fuori da da quell'etichetta ti consente più facilmente di uscire fuori dall'etichetta e di riprendere un cammino un percorso diverso lo stesso discorso vale anche per una relazione quando una relazione si chiude per chiuderla definitivamente oh salutiamo buonanotte a Silvia Sisidi quando una relazione ah è brava brava quando una relazione quando una relazione si chiude non è che uno deve buttare tutto perché per carità i ricordi ci possono sempre essere però un oggetto simbolico andrebbe eliminato un oggetto simbolico andrebbe eliminato perché se elimini un oggetto simbolico se elimini un oggetto simbolico riesci a dare una comunicazione al cervello alla nostra mente più profonda che le cose stanno cambiando perché è difficile ho capito tutto quello che è difficile è anche possibile allora mettetevi in testa due regole fondamentali tutto quello che è difficile è possibile e quindi possiamo farlo tutto quello che è simile per definizione è anche diverso ok quindi queste sono due regole uno dice ma questo è simile all'altro se è simile vuol dire che è diverso ah io mi sono tolto l'anello però dovresti prendere qualcosa oltre a toglierlo e buttarlo non è che di buttare l'anello ma qualcosa che poteva rappresentare questo per Federica Mandi qualcosa che poteva rappresentare la vecchia relazione qualcosa lo prendi e lo butti lo butti proprio cioè non è che lo butti e te lo tieni a casa lo butti via lo butti via perché il nostro il nostro cervello capisce quando vogliamo chiudere ma non sto dicendo di buttare l'anello d'oro non sto dicendo di buttare l'anello d'oro sto dicendo che però a livello simbolico quando vogliamo chiudere qualcosa dobbiamo fare questo gesto liberatorio di liberarcene possiamo vabbè per chi abita al mare può buttarlo nel mare può buttarlo eh eh ad esempio mettere in un cassonetto e buttare in un sacco nero e buttare via è importante questo perché diamo una comunicazione al nostro cervello che con quella cosa lì abbiamo chiuso con quella cosa lì abbiamo chiuso e abbiamo e abbiamo trovato un'altra strada perché questo dobbiamo tenerlo presente fin tanto che un bicchiere è pieno fin tanto che un bicchiere è pieno non può riempirsi di qualcos'altro i liquidi sono incomprimibili fin tanto che tu hai una fin tanto che tu hai nella testa una persona e difficilmente potrà entrare in un'altra e questo è anche strano io lo vedo spessissimo parlando con parlando con le persone lo vedo spessissimo cioè ci sono persone che hanno delle relazioni di merda ma il fatto che siano di merda questa merda diciamo così riempie il contenuto di emozioni e se il contenuto emotivo è pieno di merda non può riempirsi d'altro ma anche se è pieno di veleni mentali se uno ha il contenuto pieno il serbatoio delle emozioni pieno di gelosie pieno di ebbè certo che è stato un emozionante buttare perché chiudi dai un taglio al passaggio dare un taglio no dare un taglio anche questa è una cosa simbolica si utilizza dare un taglio al passaggio dai un taglio ai tuoi problemi dai un taglio alle sofferenze anche dare un taglio le parole che usiamo hanno un significato quindi ad esempio tagliare qualche cosa tagliare qualche cosa che apparteneva alla vecchia situazione è proprio a livello simbolico le parole che noi utilizziamo non sono utilizzate così a caso perché dare un taglio significa recidere significa è come dire un ponte che cade quindi le donne spesso si tagliano i capelli anch'io vedi a furia di tagliare anch'io ogni relazione accorcio un po' i capelli alla fine alla fine sono rimasto così adesso posso solo scorticarmi alla prossima mi scortico ad ogni relazione accorcio un po' i capelli taglio perché prima avevo a vent'anni avevo i capelli lunghi un metro e mezzo più di papella alla fine di tagliare sono rimasto così va bene adesso posso tagliare la barba non c'è più niente a tagliare cioè qualcosa ci sarebbe ancora però magari meno non tagliarlo anche se mai non è più funzionante però diciamo a livello decorativo qualcosa c'è ancora però non più non più diciamo non più funzionante ma soltanto a livello decorativo papella dove è papella non lo so papella dove è sto papella papella oramai di funzionante non c'è più niente però però quindi quindi stiamo dicendo no sicuramente poi se abbiamo a che fare con persone che nei nostri confronti fanno gaslighting o fanno diciamo ghosting ghosting sono le persone che diventano dei fantasmi ma ce ne sono tante che diventano fantasmi che dice in un momento all'altro questo sparisce non ti manda più un messaggio anzi ci sono quelli che ci sono situazioni strane ci sono quelli che ti proprio spariscono poi ricompaiono e poi spariscono e poi ricompaiono il ghosting è quello perché il fantasma ogni tanto appare no ogni tanto eh sì ma però ce ne sono tanti saranno vigliacchi loro ma sei tu fessa che gli dai corda però fessa in senso buono Vittorio Ravinka cioè fesso che gli dà corda no ci sono quelli che fanno proprio il fantasma il fantasma che ogni tanto appare ogni tanto scompara ogni tanto appare e quando appare appare sempre in situazioni diciamo lo fanno gli perlogi narcisisti certo gli perlogi più che altro narcisisti ogni tanto appaiono ogni tanto scompaiono e e quindi in questi casi che fare in questi casi e questo ghosting è questo fare il fantasma in questi casi no in questi casi bisogna diciamo emulare il loro comportamento cioè nel senso non accettare più il ritorno non accettare più il ritorno perché quindi poi dipende da noi no dipende da noi e quindi in questo caso la scelta d'amore è una scelta d'amore verso se stessi il titolo di questo video è la scelta d'amore tra gaslighting e ghosting la scelta d'amore è la scelta che dobbiamo fare verso noi stessi soltanto verso noi stessi possiamo fare una scelta d'amore in questo caso perché la la sì e appunto se tu ma fa bene non accettarlo se non accetti vuol dire che devi tagliare i ponti devi tagliare devi recidere recidere devi abbandonare fare una scelta d'amore per te stessa e quindi fare una scelta d'amore verso se stessi cosa vuol dire vuol dire promuovere tutte le cose che sono in sintonia con te e eliminare dalla tua vita eliminare dalla tua vita tutte le persone le cose gli oggetti le situazioni che non hanno più una funzione o per meglio dire non hanno una funzione utile per te catwoman i cinici ritornano ecco abbiamo la nostra catwoman i cinici tornano ma certo che possono tornare ma anche i narcisisti tornano i narcisisti possono passare anche vent'anni e ci sono dei narcisisti che ritornano dopo vent'anni dopo vent'anni si fanno vivi cioè ehi là tutto bene è un po' di tempo che non ti sento sono passati vent'anni il gaslighting è un film è il titolo di un film di un certo periodo non mi ricordo esattamente l'anno però un film abbastanza datato vale a vedere è interessante questo per tati e tati che racconta la storia di un marito che voleva cercava di far passare pazza la moglie e allora spostava gli oggetti in casa li metteva delle cose in modo tale che la moglie piano piano diciamo così assimilava l'idea di essere diventata matta e quello che fanno i narcisisti i narcisisti ti fanno gaslighting cioè ti fanno credere di essere tu quella sbagliata che loro sono quelli loro sono quelli giusti e tu per qualche motivo sei quella sbagliata e ti fanno credere pazza e ti dicono vai in farmacia e prendi gli psicofarmaci e se tu per caso cadi nel tranello e vai in farmacia e non sapendo dove dare la testa la vai a dare nell'exotan Lady Elvira ciao Lady Elvira non sapendo dove dare la testa vai a dare la testa nell'exotan a quel punto lì sei finita quindi il gaslighting è veramente pericoloso cioè è veramente pericoloso non è pericoloso in sé è pericoloso credere diciamo così alle persone che ti vogliono far sembrare pazzo ma è cattiveria pura però il narcisista utilizza spesso la tecnica del gaslighting lo fa naturalmente lo fa naturalmente beh agiscono sempre su una personalità compromessa purtroppo però Isabella Cancelliere le personalità compromesse sono tante nel senso che certo che un narcisista che vuole fare gaslighting a Buddha per dire non ci riuscirà come dire non riesci neanche come dire a fare ghosting a uno realizzato diciamo così è ovvio che non ci riesci però infatti narcisisti su chi attecchiscono attecchiscono su quelli sui cosiddetti codipendenti quelli che in qualche modo sono bisognosi d'amore non attecchiscono sulle personalità realizzate diciamo così però ci sono tante persone che hanno beh più sensibili ed empatici e che hanno anche delle come dire un po' bisognosi il gaslighting poi si può manifestare a a diversi livelli si può manifestare a livelli diciamo più superficiali in cui l'altra persona dice ti vuol far credere che tu hai sempre torto il gaslighting beh sì un bodhisattva o un Buddha sono inattaccabili il bodhisattva sono le anime compassionevoli sapete che è il bodhisattva il bodhisattva è uno che è sul cammino per diventare Buddha diciamo così sono cosiddette anime compassionevoli dell'universo i bodhisattva che agiscono decidono di reincarnarsi per per aiutare tutti gli esseri senzienti nel cammino siamo tutti attaccabili siamo tutti attaccabili relativamente siamo tutti attaccabili siamo tutti attaccabili per carità però c'è chi lo è di più c'è chi lo è di meno anime compassionevoli nel senso che la compassione è ad esempio guarimi del raffreddore la compassione le due istanze sono l'amore e la compassione la compassione è diciamo il desiderare di alleviare le sofferenze degli altri se tu incontri una persona che ha fame e lo sfami fai un atto compassionevole la compassione può essere fatta a diversi a diversi livelli io e Alessandro Papa siamo in empatia il raffreddore siamo in empatia il raffreddore per trasmutazione ci sono ecco potrebbe essere a causa di un campo morfogenetico li conosci i campi morfogenetici Alessandro Papa il campo morfogenetico è interessante il concetto di campo morfogenetico è interessante sapete cos'è il campo morfogenetico le trasmissioni sono trasmissioni di informazione a livello energetico c'è stato quell'esempio famoso sia delle scimmie che degli alberi quello delle scimmie il campo morfogenetico è un campo di trasmissione energetica hanno fatto un esperimento su delle scimmie delle scimmie che stavano su due isole separate completamente separate e cosa succedeva e a queste scimmie davano da mangiare delle patate insabbiate sporche di sabbia e quindi queste scimmie non sapevano come mangiare faceva schifo mangiarsi la sabbia e sono stati diversi giorni diverso tempo che non mangiavano le patate perché erano sporche di sabbia poi una scimmia su un'isola ha capito che se lavava la patata nell'acqua la patata perdeva la sabbia e poteva mangiarsela nello stesso momento in cui questa prima scimmia su un'isola è riuscita a fare questo questo apprendimento automaticamente è stato appreso da altre scimmie a cui successivamente hanno messo le patate sporche di sabbia cioè è un'abilità che le altre scimmie avevano già preso non è passato più il tempo a pensare come facciamo a pulire è un'abilità che avevano già preso e quindi queste altre scimmie che non erano mai entrate in contatto con le prime scimmie avevano acquisito questa abilità e da subito pulivano le patate nell'acqua le patate sporche di sabbia le avevano imparato senza che ci sia stata una trasmissione la stessa la stessa cosa è avvenuta per la stessa cosa è avvenuta la stessa cosa è avvenuta attraverso questo concetto di campo morfogenetico di trasmissione energetica per delle piante delle piante di una foresta adesso non ricordo in quale zona avevano subito diciamo degli attacchi da parte di batteri che praticamente uccidevano le piante batteri insomma questi insetti queste cose qua delle piante e hanno messo un po' di tempo queste piante a sviluppare un sistema difensivo da questi batteri da questi virus delle piante adesso non so che cosa fossero insomma hanno messo un po' di tempo a sviluppare e poi hanno messo in atto queste caratteristiche difensive e in un altro continente le altre piante hanno appreso questa informazione per cui quando gli hanno dati i batteri loro erano già pronte col sistema immunitario difensivo verso i batteri pur non essendo mai entrati in contatto con le altre piante tra l'altro appunto le piante non si muovono quindi non è che potevano entrare in contatto ma erano proprio addirittura di un altro continente non è morfologico morfo genetico quindi magari se due persone sono in entanglement ecco si dice che se due persone sono in entanglement entanglement vuol dire in collegamento significativo è facile che beh ma guardate un attimo ad esempio ci sono delle donne qua voi prendete delle donne prendete delle donne mettete che ne so venti donne assieme se tra queste donne si entanglement sits canetti sits sits se mettete venti donne assieme vabbè voi qua sarete in menopausa già e quindi non avete più questo problema ma se mettete venti donne assieme che non sono in menopausa come voi diciamo così e dopo un po' di tempo tra queste donne si tra queste donne si crea un'intesa profonda dopo un po' di tempo queste si sincronizzano con il ciclo cioè hanno il ciclo tutte nello stesso periodo e questa è una trasmissione morfogenetica cioè una trasmissione che arriva diciamo che arriva a diciamo si trasmettono il ciclo si si trasmettono il ciclo si trasmettono vabbè voi non avete più questo problema perché già siete tutte in menopausa però hello from Russia abbiamo Ljona vediamo se è russa veramente abbiamo la nostra Ljona 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 dalla Russia vediamo se è russa veramente Ljona Ljona Tuglienkov Ljona Tuglienkov Ljona Tuglienkov non so se si scrive ancora Ljona vabbè si io parlo un po' di russo un po' di russo lo parlo si no il nome Ljona Tuglienkov vediamo se rispondo se non rispondo comunque ah ok Ljona Tuglienkov Ljona Tuglienkov ah Ljona Tuglienkov ok Minha Maxim Minha Savut Maxim anche lei parla Ocim Prijatna Privet abbiamo abbiamo beh non è nel caso ecco ah I am lion lion Ljona Ljona maschio maschio si 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 lion non è detto che c'è è un nome russo un nome russo lion non è che eh atkuda is no non toglietemi terra piattaro non toglietemi oh pink power non rompete le palla terra piattaro non è un troll terra piattaro non sospendete allora non sospendete terra piattaro ti tolgo la chiave eh non sospendete terra piattaro non è un troll fa delle battute ma non è un troll quindi ripristinatemi terra piattaro adesso gli do la chiave ripristinatemi terra piattaro che io non riesco a fare un cavolo di qua non è un troll terra piattaro non è un troll adesso gli do la chiave non è un troll ma fa delle battute che mica ha detto che avrà detto ha detto mi piacciono donne piatte che avrà detto mai non è un troll non è un troll terra piattaro non ha fatto nessuna battuta i troll sono quelli che disturbano lui ha fatto una battuta ma è una battuta accettabile mica siamo non siamo mica al tribunale dell'inquisizione qua non è mica al tribunale dell'inquisizione qua ah Lion non sta a Barcellona ma perché cioè vi fate perdere tempo fatevi cioè vanno eliminati solo i troll e basta gli altri non vanno eliminati dove terra piattaro ma avete il cervello di una gallina morta vabbè quando torna terra piattaro avrà la chiave vediamo un po' to' canale adesso si dovrebbe vedere terra piattaro aggiungi moderatore dovrebbe avere anche la chiave adesso adesso dovresti avere anche sì l'ho nascosto per farlo rinascere adesso dovrebbe avere la chiave terra piattaro chi è che insulta cioè occhio cioè non eliminate le persone che non hanno comunque stavamo dicendo quindi Federica De Grazia non so chi sei cioè la prima volta che ti vedo ecco la mia situazione sì allora non ha un senso non è che non è che non è che ha un senso non è che ha un senso canetti sitz non andare da nessuna parte zitta sitz platz cuccia canetti non va a dormire sitz e qua e stai zitta allora stavamo dicendo sì le mestruazioni non è detto che abbiano un non è detto che le mestruazioni abbiano Sofia M usa un terminologia diversa allora stavo dicendo le le mestruazioni non è che ha un senso che diciamo la sincronizzazione ma è un fenomeno dell'entanglement l'entanglement l'entanglement che cos'è è quando si crea un collegamento significativo tra due persone quello che capita a una situazione capita anche all'altra situazione quindi è una è una legge questa non è che deve avere un senso non so come spiegarmi è come dire la forza di gravità ha un senso sì può avere un senso però è una legge fisica quindi funziona quando ha un senso quando anche quando non ha un senso quando due persone sono in quando due persone sono in in entanglement dove è adriana dj adriana dj intanto salutiamo anche che è tornata wonder robie wonder robie la grande wonder robie iscrivetevi al canale della wonder robie dove è adriana paratore adriana paratore ok abbiamo anche adriana paratore come moderatrice da direttamente la dj moderatrice abbiamo dato la chiave anche ad adriana paratore quindi terra piattaro adesso sei 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 chiamato anche tu sei chiamato anche tu ah la connessione comunque quindi dobbiamo tenere presente questo no che la diciamo il discorso adesso non ti cacciano più terra piattaro sei hai la chiave non ti possono più eliminare stavo dicendo adesso praticamente quindi la sincronizzazione la sincronizzazione avviene sempre per il fenomeno dell'entanglement cioè del collegamento significativo non è detto che abbia un senso meno però tornando al discorso precedente invece che è il tema centrale di questa live che il tema precedente l'entanglement è un collegamento significativo penso che tutti non so se lo conoscono tutti comunque è stato studiato dalla fisica quantistica è quando un elettrone entra nell'orbita di un atomo e che condivide la stessa orbita con un altro elettrone sapete che per il principio di esclusione di Pauli su un orbitale diciamo così possono starci al massimo due elettroni quindi quando poi si separano questi due elettroni si separano il collegamento significativo è ad esempio nel caso degli elettroni qual è il collegamento significativo nel caso degli elettroni è che condividono lo stesso orbitale di un atomo quindi se tu prendi due elettroni che condividono lo stesso orbitale di un atomo che quindi hanno lo spin opposto tutto quello che capita poi nel caso della variazione di spin su un elettrone la stessa variazione di spin si ripercuote sull'altro elettrone anche se non condividono più lo stesso orbitale di un atomo ma anzi sono agli antipodi dell'universo e quindi cosa vuol dire questo? vuol dire che intanto che la trasmissione di informazioni è diversa dalla velocità della luce cioè avviene istantaneamente ma il che significa che questi due potrebbero leggersi in un modo opposto e in un modo opposto come si potrebbe leggere? si potrebbe leggere che questi due elettroni non sono mai separati ma sono uniti e questo vuol dire che è il principio della non località della meccanica quantistica quindi lo spazio e il tempo lo spazio e il tempo rimandano questo invece è un troll fatelo secco lì come cavolo si chiama questo è un è un concetto la luce viaggia a 3x10 all'8 metri al secondo ma non è ma praticamente no no quello bloccato perché lo blocchi lo sblocchi quello è un troll invece sto HD ribloccalo che è un troll quello è un troll pantera perché l'hai sbloccato Letizia Robert Robert ciao Letizia io ti ti considero però quindi tornando al discorso tornando al discorso precedente ecco brava Adriana tornando al discorso precedente invece no è un troll scriveva tornando al discorso precedente invece lo stesso fenomeno dell'entanglement si può manifestare anche tra le persone ecco si tratterebbe di definire che cos'è un collegamento significativo tra due persone secondo me un collegamento significativo tra due persone è ad esempio un collegamento karmico è un collegamento karmico cosa significa un collegamento karmico significa che queste due persone hanno condiviso hanno condiviso sicuramente beh intanto tra le fiamme gemelle le fiamme gemelle sono sempre un entanglement permanente la fiamma gemella è costituita da un'unica anima che si reincarna in due corpi diversi quindi praticamente un'unica anima o due ramificazioni della stessa anima ma comunque sono due come dire la stessa entità la stessa entità spirituale che condivide due corpi diversi quindi questo è diciamo il concetto di fiamma gemella tutte le fiamme gemelle sono in entanglemente ma anche persone che però secondo me condividono delle emozioni beh la fiamma gemella come si riconosce c'è un po' il mito ho fatto una live su quello comunque c'è un po' il mito di credere che della fiamma gemella bisogna innamorarsi ma non è detto la fiamma gemella è sicuramente una persona che aiuta a sviluppare la tua crescita e anche se ti genera una sofferenza lo fa per farti crescere come un genitore che ti educa e ti fa crescere diciamo così però non è detto intanto che in tutte le vite si incontra la fiamma gemella potrebbe essere che la fiamma gemella non si incontra in tutte le vite ma la incontri in momenti significativi e potrebbe essere non è detto che sia una relazione sentimentale potrebbe essere un genitore un amico un parente una persona che interagisce nella tua vita in qualche modo e diciamo interagisce nella tua vita in qualche modo ma sempre finalizzato alla crescita evolutiva della persona quindi la crescita evolutiva della persona è il concetto di base della fiamma gemella la crescita spirituale quindi una crescita personale come persone cioè arrivare verso un discorso evolutivo fondamentale salutiamo Anna intanto mentre l'anima gemella è sempre un legame carmico molto forte ma potrebbe essere anche un legame carmico basato sulla sofferenza nell'anima gemella detta così può essere la vittima del carnefice spesso le anime gemelle sono situazioni che le anime gemelle sono situazioni in cui si soffre si soffre si può trovare la fiamma gemella perde il problema certo che non è detto che la fiamma gemella sia una relazione sentimentale abbiamo questo questa cosa questa speranza la fiamma gemella la puoi trovare in tantissime vite certo la fiamma gemella interviene nella tua vita o tu intervieni nella sua nel momento del bisogno è come se fossero due anime il simbolo della fiamma gemella è quello di una fiamma con un'unica base che si ramifichi in due parti quindi è possibilissimo che magari stai cento vite senza incontrare la fiamma gemella poi le incontri quando serve a Roma torno 7 aprile 7 aprile eccolo qua guardate vi ricordo gli appuntamenti Torino questo venerdì 22 febbraio ore 21 farò il corso sulla PNL programmazione neurolinguistica applicata al benessere alla seduzione quindi a Torino il corso dalle il 22 febbraio ore 21 mentre i due corsi intensivi saranno a Milano il 3 marzo domenica 3 marzo dalle 9.30 a 19 e Roma domenica 7 aprile dalle 9.30 a 19 e il riferimento è sempre 333 15 11 703 Stella gemella era la canzone di aspetta come si chiama quello lì come si chiama quella stella gemella stella gemella eros ramazzotti eros ramazzotti eccolo lì eros ramazzotti stella gemella eh già Adriana Adriana io non conosce eros ramazzotti ramazzotti stella gemella vabbè adesso non so non ricordo bene la canzone però il concetto è un po' quello comunque l'entanglement secondo me si manifesta quando c'è un'intesa possiamo dire un'intesa profonda che può essere un'intesa karmica un legame karmico d'altra parte le cose che legano le anime delle persone sono l'amore e l'odio eros e sanatos se voi non volete avere a che fare con un'anima diciamo così che volete non interagire più magari in vite successive non dovete né amarla né odiarla quello che slega le persone è l'indifferenza cioè se voi volete è l'indifferenza che slega le persone tutto invece quello che anche l'odio lega l'odio è un legame molto forte l'odio è un legame molto forte tra le persone tieni uniti canetti sits 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 canetti sits sits la canetti va a dormire vabbè lasciamo andare a dormire la canetti dai un narcisista può essere un'anima gemella ma potrebbe essere sì certo potrebbe essere l'anima gemella hanno detto che però l'anima gemella non è che devi frequentarla la fiamma gemella diciamo la fiamma gemella ha sempre questa caratteristica ok diamo la buonanotte alla canetti faccio partire il rap giusto giusto faccio partire il rap per dare la buonanotte adesso faccio il video qua il rap della canetti la mia canzone la mia nuova canzone sarà il tormentone del 2019 inverno 2019 il nuovo tormentone sfonderemo tutte le classifiche arriveremo in cima in cima il canetti rap abbiamo ho trovato il titolo canetti rap canetti rap sarà il nuovo video sarà il tormentone del 2019 supererà le canzoni tutto supererà tutte le canzoni di Michael Jackson messo assieme questa canetti questo canetti rap ve lo faccio risentire perché diventerà il tormentone zitta 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 canetti a scuccia ziz flat ziz flat ziz zitta bene bene il canetti rap canetti rap quindi va bene dai visto che comunque abbiamo fatto una live lunghissima di un'ora e sette minuti ragazzi adesso mi vado vado a vedere se riesco a creare un video un video comunque detto questo dobbiamo tenere presente dobbiamo tenere presente questo che i temi del 7 aprile devo ancora definirli Tiziana devo ancora definirli temi del 7 aprile devo ancora definirli allora dobbiamo tenere presente questo quindi il messaggio poi che importante di questa live è che la scelta d'amore deve essere una scelta d'amore verso se stessi perché anche i citati bodhisattva della canetti il bodhisattva che è un un'anima compassionevole quindi sono anime che si reincarnano proprio per il per alleviare diciamo così le sofferenze di tutti gli esseri senzienti quindi vengono chiamate anime compassionevoli dell'universo mentre i Buddha sono le anime risvegliate dell'universo ecco la differenza perché noi utilizziamo sempre queste parole no Buddha e bodhisattva è importante capire notte Martina da Vienna è importante capire la differenza quindi il Buddha è l'anima risvegliata le anime risvegliate dell'universo e il bodhisattva è l'anima sono le anime compassionevoli dell'universo adriana ma stasera non lavora io ti sento adriana guarda che tu non lo sai ma io ti sento ti sento la sera spesso quando vado rientro da Torino questo su radio z che adriana partore di radio z ti sento spesso spesso notturno infatti io ti becco ti becco spesso alla sera si si fai il notturno il notturno esatto esatto dall'una alle tre ma tu lavori da casa no curiosità lavori da casa o eh manda un messaggio va bene ma tu lavori da casa o devi andare in radio fisicamente fino alle tre fino alle tre di notte è una curiosità è solo così io avevo partecipato forse lo conosce una trasmissione ah dallo studio avevo partecipato una volta a una trasmissione su radio 2 che mi avevano chiamato con gli autori di un autore di Fiorello che si chiama poca miseria Cesare no Taddei Taddei mi sembra si chiamasse Taddei forse non so se mi sembra Taddei Taddei qualcosa del genere sono anche tv 267 digital terrestre 766 di Sky vorrei fare il lavoro di Adriana eh digital terrestre 266 ce l'ho Sky no perché la televisione non la vedo mai allora una volta ti vedo dai 266 del digital terrestre quello ce l'ho la televisione non ce l'ho per sopra mobile la televisione brava brava libertina incazzato perché ha perso un interesse nel libertinaggio dai dai tati che ce la fai l'importante è che hai chiuso anche con l'altra storia facciamo da bodhisattva per tati tati facciamo da bodhisattva per tati tati solo certe illusive a poi Adriana Adriana è bravissima Adriana è bravissima adesso come dire non per captatio benevolenza ma Adriana è veramente bravissima se la sentite su Radio Z è veramente veramente brava Adriana è proprio come dire a parte che è una bellissima voce cioè veramente una bella voce ci sono dei video dove mi intervistavo era un'altra radio non quella dove avevo fatto qualche intervista con Adriana però è veramente brava veramente brava una bella voce in gamba grande Adriana quando vengi a Roma dai vieni a trovarmi sei ospite gradita Adriana se riesci a venire è una domenica tanto tu sei dalle parti di Roma no? così ci conosciamo di persona eh brava brava dai tanto è zona termine io non so dove sei tu comunque e vieni per pranzo almeno almeno mangiavo anche assieme ma che vecchio marpione Adriana è un'amica un'amica casalotti eh non conosco Adriana la conosco abbiamo fatto anche abbiamo fatto anche delle interviste anche delle interviste terra piattaro va bene a Roma Nord abbiamo fatto anche ci sono diverse abbiamo fatto tante ogni intervista abbiamo fatto diverse interviste che andavano sulla radio dove lavoravi prima che mi ricordo che radio era quella lì dove lavoravi prima però interviste ne avevano fatte tante mi ricordo un casino di interviste avevano fatto avevano fatto una coppie sposate dimostrano che esiste l'amicizia tra uomo e donna perché esatto per almeno un anno l'abbiamo fatta sì 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 mi ricordo ma tutti quelli che hanno una moglie hanno un'amica cioè che vuol dire tutti quelli sposati hanno tutti quelli sposati hanno un amico o un'amica certo tutte le coppie sposate hanno un'amicizia casta e guarda prendi le coppie sposate da più di dieci anni sono tutti amici tutti amici cara Simona Rana deve aggiornare il repertorio e chi aggiornare il repertorio beh questa è la verità comunque esistono anche altre forme di amicizia ma questa è la verità ma non è la verità Vittorio la nefilim stasera è la nefilim è acida è acida questa sera abbiamo la nefilim acida Vittoria Vinca è acida stasera che ti hanno fatto Vittoria Vinca ti ha mollato ti ha mollato il tipo ah no già scusa non è no scherzo volevo ricambiare la città ma mi becco mi becco il ritorno carmico negativo per cui mi becco il ritorno carmico negativo della Vittoria Vinca quindi invece esprimiamo compassione per Vittoria Vinca ha letto perché sapete che Vittoria Vinca Adriana sai che Vittoria Vinca non è terrestre noi che qua siamo a ricercare le extraterrestre ma noi in questa live abbiamo Vittoria Vinca io vi informo a tutti Vittoria Vinca non è terrestre non è terrestre Vittoria Vinca appartiene alla stirpe dei nefilim i nefilim che sono anche citati nella Bibbia so che Adriana sei pure un'esperta di Bibbia quindi i nefilim biblici i nefilim biblici un esponente dei nefilim biblici è la è la Vittoria Vinca infatti è alta 2 metri e 50 è alta si sono estinti no non si sono estinti tutti col diluvio è rimasta è rimasta ma poi nefilà adesso non so se conosci questo il nefilim allora nefilà al singola perché nefilim come Elohim è un plurale nefilà significa Orione quindi i nefilim probabilmente provenivano da Orione perché almeno il termine nefilà significa Orione nefilim è un plurale nefilim è un plurale ah Bellatrix Bellatrix è una stella della cintura di Orione Bellatrix non perché sia bella lei ma perché Bellatrix è una stella della cintura di Orione sono tre stelle della cintura di Orione che tra l'altro sono tre stelle che sono lontanissime no no una stella della cintura di Orione non so se erano specie ibride nefilà è una nefilà e significa significa Orione poi mentre gli Elohim mentre gli Elohim probabilmente almeno secondo le teorie di Zakaria Sitchin che non parlava dell'Elohim ma parlava degli Anunnaki e qua c'è da dire qualcuno che credeva che Elohim e Anunnaki fossero le stesse fossero le stesse diciamo la stessa razza aliena Elohim e Anunnaki però questo non lo so però secondo le traduzioni dei testi su Merakadici che ha fatto Zakaria Sitchin gli Anunnaki dovrebbero provenire da questo famoso decimo pianeta il pianeta Nibiru che pare che abbia un'orbita molto grande attorno al sole ogni 3600 anni e questo però questo è quello che sta scritto nei testi su Merakadici esistono pure gli alieni e secondo te c'è tutto questo popò di universo terra piattaro per essere solo noi? Ah non l'ho visto gli Elohim sono citati nella Bibbia gli Elohim poi non voglio adesso il rispetto per tutte le tradizioni religiose quindi ognuno crede le cose sue ovviamente non è che io voglio dire una cosa ognuno crede adesso poi il discorso sarebbe lungo però non so se tu Adriana so che tu non voglio ovviamente entrare nella tua come dire spiritualità però non so se tu hai mai visto giusto così per diciamo hai mai letto i libri di Mauro Biglino ho fatto anche un'intervista io sul canale a Mauro Biglino che è un esperto Mauro Biglino è un traduttore un esperto di traduzioni della Bibbia e tra l'altro ci sono io parlavo con Mauro qualche volta ci sono tantissime differenze ad esempio tra le traduzioni della Bibbia che fanno per le università cioè per le persone che conoscono comunque l'ebraico antico e per le persone invece che non conoscono ad esempio il termine olam nella Bibbia che viene spesso tradotto come eterno non significa eterno significa un tempo molto lungo ma tempo molto lungo per definizione non è eterno sì guarda uno è questo qua ce ne sono tanti io va bene ne ho tanti ad esempio questo qua l'ha creduto degli dei di Mauro Biglino l'ha creduto degli dei ma ce ne sono tanti dei libri ma ti trovi anche un sacco di conferenze che fa su YouTube trovi un mondo digiti Mauro Biglino trovi un sacco di un sacco di anche una mia intervista sul canale cioè di di Mauro Biglino sì diciamo che è una versione comunque ad esempio un altro termine barà che viene che viene spesso tradotto proprio nella Genesi 1 viene tradotto col col termine creare in realtà barà non significa creare e questo lo dicono comunque anche i rabbini c'è anche un'intervista del rabbino capo di Roma che adesso mi chiamano il termine barà non significa creare non significa creare da nulla cioè non è la creazione significa trasformare qualcosa di esistente barà infatti secondo le traduzioni di 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 appunto gli Elohim non hanno creato la terra hanno adattato la terra delle loro condizioni però è interessante poi ripeto nel rispetto delle diciamo delle credenze di ognuna non è che uno deve cambiare ciò che crede perché però io credo che sia utile sentire tanti pareri poi ognuno ovviamente giustamente segue la sua segue la sua diciamo perché tu non segui nefilim siamo partiti da te sono finito da biglino partendo da te vittoria vinca partendo da te stavo dicendo che non sei una terrestre sei una nefilim e quindi siamo finiti a parlare di biglino perché partendo da te che non sei terrestre esatto è importante documentarsi su tutto e poi uno si fa una propria opinione giustamente quello che è comunque io sono partenopeo partenopeo beh ad esempio la storia dei capelli dei capelli ad esempio ma lo stesso mi sembra San Paolo diceva che le donne dovevano coprirsi il capo a motivo degli angeli ad esempio gli angeli malachim biblici erano persone estremamente pericolose comunque dai abbiamo fatto una live lunghissima un'ora e ventitré quindi vi ricordo vi ricordo gli appuntamenti Torino 22 febbraio ore 21 sarà PNL applicata al benessere e alla felicità Milano domenica 3 marzo dal 9.30 al 19 Roma 7 aprile dal 9.30 al 19 domenica riferimento 3 3 3 3 15 11 7 0 3 quindi vediamo un po' prima di salutarvi una civiltà evoluta deve necessariamente abbandonare la religione monoteista ma ad esempio nel buddismo non c'è non è prevista una nel buddismo sì ma a motivo degli angeli però in tutte le le situazioni dove erano previsti gli angeli a motivo degli angeli ma ad esempio anche i cherubini erano è interessante guarda se vai a vedere le traduzioni i cherubini ad esempio sembra che fossero delle macchine non fossero delle è interessante è interessante beh ad esempio il buddismo non prevede una divinità anche perché come dire beh che la terra si accava che la terra si accava pare che l'abbiano dimostrato i cinesi degli studi cinesi che poi si è abitata è un altro discorso ma che la terra si accava l'hanno dimostrato degli studi cinesi che hanno studiato le onde sismiche e hanno praticamente si sono resi conto che all'interno della terra ci sono almeno nei primi 600 chilometri delle montagne delle pianure ah biglino eh sì biglino è un grande biglino un grande biglino beh ecco poi il buddismo adesso vado un po' a ruota libera quindi vado un po' a ruota libera rispondo un po' così allora Adriana il buddismo in realtà non esiste un'unica tipologia di buddismo esistono diverse tipologie di buddismo perché la filosofia di intanto Buddha significa risvegliato il buddha storico Buddha Shakyamuni ha dato insegnamenti per circa 50 anni perché lui diciamo ha raggiunto l'illuminazione il risveglio diciamo così a 29 anni ed è vissuto fino a 80 anni quindi ha dato e da 29 anni fino a 50 anni ha dato degli insegnamenti quindi ha dato insegnamenti a moltissime persone Gesù ad esempio ha dato insegnamenti per un tempo molto più breve perché circa 3 anni quindi dando insegnamenti per un tempo molto lungo lui ha interagito con persone molto diverse e allora la filosofia del Buddha era quella di adattare il tipo di insegnamento alla alla popolazione che incontrava per dare degli insegnamenti che loro potessero comprendere perché per fare un esempio di questo è voglio fare un esempio perché se uno dice ma come raccontava cose diverse non raccontava cose diverse infatti ci sono ah Nicherin e quello è il buddismo giapponese della Soka Gokai quello è il buddismo della Soka Gokai e io seguo il buddismo tibetano prevalentemente che è un'altra roba del buddismo giapponese ecco io ad esempio non mi sento molto in sintonia con il buddismo di Nicherin poi magari un giorno dirò il perché comunque però stavo dicendo dava insegnamenti molto diversi no e questi insegnamenti beh ad esempio il buddismo di Nicherin studiano prevalentemente solo l'ultimo l'ultimo sutra di Buddha il sutra del loto e comunque perché la sua filosofia era quella di dare degli insegnamenti che le persone potessero comprendere se uno fa le elementari inutile che gli parlo degli integrali o delle cose complicate perché non le capisci quindi sono andate diverse forme di buddismo per cui il buddismo giapponese dove c'è il buddismo zen e il buddismo della Soka Gokai il buddismo tibetano il buddismo del sud-est asiatico il buddismo cinese ci sono varie forme di buddismo quindi definire che cos'è esattamente il buddismo ci sono i quattro diciamo sigilli le quattro nobili verità che sono l'impermanenza che sono il vuoto di esistenza intrinseca insomma quattro concetti fondamentali che devono avere tutte le filosofie per potersi definire buddiste però ci sono tante differenze ad esempio nel buddismo tibetano si è fuso con il buddismo tibetano si è fuso è stato portato in 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 tibet intorno all'anno 1000 da Atisha che era un maestro indiano e si è fuso con la religione che poi era una religione sciamanica che rappresenta all'epoca in tibet che era lo sciamanesimo bom quindi il buddismo tibetano è intriso di rituali sciamanici ad esempio ci sono molti rituali nel buddismo tibetano ed è quello che è studiato meglio la morte diciamo così vabbè questo è per era una divagazione un po' così no ma non è che il buddha so ha avuto un'evoluzione di pensiero confluita poi nell'ultimo sutro ovvio che mi riferò a quello ma non è che ha avuto un'evoluzione di pensiero perché allora l'evoluzione di pensiero e questa è un'illusione no perché lui dal momento in cui ha raggiunto l'illuminazione non c'è come dire l'evoluzione del pensiero non è che ha avuto un'evoluzione quando lui raggiunge l'illuminazione lui dava insegnamenti diversi a seconda delle popolazioni che incontrava non lo so ci sono dei sutra che non è l'ultimo sutra il sutra della perfezione c'è un sutra bellissimo non è l'ultimo ma è un sutra bellissimo cioè non è che i sutra sono a vari livelli per il momento in cui lui raggiunge l'illuminazione non c'è più un'evoluzione perché se ci fosse un'evoluzione nel momento in cui lui ha raggiunto l'illuminazione non avrebbe raggiunto l'illuminazione questa è un'illusione crede che se lui raggiunge l'illuminazione crede i primi insegnamenti che Buddha ha dato dopo che ha raggiunto l'illuminazione sono le quattro nobili verità ma non è che le quattro nobili verità che sono le prime che lui ha dato valgono di meno e valgono di più le ultime perché nel momento in cui raggiunge l'illuminazione in teoria l'evoluzione non c'è più ok cioè se no non avrebbe come dire non avrebbe raggiunto l'illuminazione quindi tutti gli insegnamenti di Buddha hanno un valore uguale non c'è una non c'è una diciamo no non vuol dire che sono solo all'inizio che vuol dire non è vero non sono solo all'inizio sono i primi insegnamenti che hanno lo stesso valore degli ultimi perché lui era già illuminato con l'altro quegli insegnamenti io sto parlando a rigore di logica Buddha nel momento in cui ha raggiunto l'illuminazione ha dato gli insegnamenti delle quattro nobili verità e le quattro nobili verità sono ah io sono il primo e le quattro nobili verità sono diciamo quattro nobili verità sono i primi insegnamenti dato da illuminato e quindi sono Dio vi ascolta e osserva ecco ad esempio il concetto di Dio nel buddismo non esiste perché non esiste non può esistere tra voi chi tra i buddismo tibetano non può esistere una divinità secondo no il buddismo tibetano non è che ha differenza tra l'altro anche nel buddismo tibetano ci sono diverse tradizioni c'è la tradizione galupa la tradizione kadampa sono quattro tradizioni quella del Dalai Lama è la tradizione diciamo galupa ma non è che ci sono particolari nel buddismo tibetano vengono utilizzati tutti i sutra e i tantra soprattutto la differenza tra sutra e tantra è che i sutra sono e la filosofia i tantra sono le saddane le applicazioni quindi nel l'illuminazione cosa significa l'illuminazione significa aver eliminato dalla nostra mente tutti i veleni che nascono dalla rabbia dall'arroganza dall'invidia aver eliminato completamente tutti i veleni mentali quella è l'illuminazione e aver sviluppato al massimo tutte le virtù quindi aver sviluppato al massimo potenziale tutte le virtù e aver diciamo eliminato tutti i veleni mentali questa è la definizione di illuminazione però comunque tornando al discorso precedente ma è uno stato a cui tendere no è uno stato che si raggiunge non è uno stato a cui tendere l'illuminazione o il risveglio il Buddha storico l'ha raggiunto non soltanto lui l'hanno raggiunto tanti altri pensa che si può raggiungere in una vita in una vita l'illuminazione si può raggiungere secondo gli insegnamenti di Buddha ovviamente secondo secondo Kaimu so però secondo Buddha l'illuminazione si può raggiungere Buddha l'ha raggiunta lui è un illuminato ma non è l'unico si fanno anche digiuni no non credo allora ecco tutte queste cose qua il Buddha storico le ha eliminato perché il Buddha prima di raggiungere l'illuminazione ha fatto tutto un percorso ascetico c'è il buddismo come è nato allora Buddha c'è tutta la storia adesso diventerebbe dovremmo fare un'altra live di altre tre ore comunque il Buddha storico nasce diciamo perché secondo la tradizione incontra un vecchio morto un malato e quindi e poi incontra un meditatore noi oggi allora decide di lasciare tutte le ricchezze che aveva e fare un percorso per eliminare l'obiettivo del Buddha eliminare la sofferenza e lui ha fatto tutto un percorso ascetico all'inizio perché lui era comunque in una cultura induista ha fatto tutto un percorso ascetico inizialmente quindi faceva i digiuni faceva le cose e poi le abbandonate praticamente e poi e poi l'ha abbandonato abbandonato quindi non c'entra niente nell'illuminazione significa il risveglio significa avere una corretta visione della realtà avere una corretta visione della realtà e eliminare i veleni mentali dalla propria mente eliminarli completamente eliminare completamente i veleni mentali dalla nostra mente Isabella cancelliere ma non sto lavorando adesso mi sto divertendo come vuoi mica a lavoro sto facendo una chiacchierata tra amici non sono andato a ballare il tango e questo è per Isabella cancelliere ma la teoria di dieci mondi la teoria allora oltre ai dieci mondi ci sono proprio sei regni la rinascita umana è una delle tante rinascite che si può avere ma in realtà nel buddismo c'è una differenza ad esempio tra l'induismo e il buddismo c'è una grande differenza nel buddismo più che il concetto di rinascita c'è il concetto di c'è il concetto di risveglio più che il concetto di rinascita c'è il concetto di risveglio e quindi cosa vuol dire il risveglio è il risvegliarsi diciamo alla il risvegliarsi ad avere una corretta bisogno della realtà ad esempio credere che tutto cambia tutto si trasforma il concetto di dio secondo il buddismo un dio creatore non può esistere perché non può esistere un effetto senza una causa questo è il concetto non può esistere un effetto cioè se esiste un effetto esiste anche una causa ma comunque poi allora c'è differenza tra leggevo chiesa tra il sentiero il percorso spirituale nel buddismo ad esempio sono accettate persone di tutte le religioni non è che uno dice uno può mantenere perché la religione diciamo così o per meglio dire la tradizione la religione esiste un percorso spirituale esiste una religione ed esiste un'istituzione religiosa che sono delle cose completamente diverse il percorso spirituale il sentiero spirituale il percorso di crescita interiore e uno può fare questo percorso di crescita interiore in qualunque affidandosi a qualunque tradizione il percorso è sempre lo stesso io posso percorrerlo in bicicletta in macchine in auto eccetera quindi posso seguire qualunque tradizione spirituale qualunque tradizione cioè una delle cose che appunto dice il Buddha è non dire la mia religione è meglio della tua la mia cosa è meglio della tua non ci deve essere una competizione tra le varie religioni o tra le varie o tra le varie tradizioni cioè il buddismo non è una religione nel senso tradizionale del termine religione nel senso che non prevede un creatore quindi non è una del poi le religioni tradizionali sono le religioni monoteiste il cristianesimo l'islam e l'ebraismo sono le tre religioni monoteiste però si non prevede l'esistenza di una divinità però prevede la possibilità ad esempio il Buddha il risvegliato non è una divinità è una persona che è riuscita a eliminare è riuscita a eliminare tutti i velenimentali dalla sua mente quindi ha un perfetto controllo di tutte del processo di rinascita ad esempio è interessante che nel buddismo tibetano si studia molto la morte ci sono delle meditazioni esatto ognuno di noi può diventare un Buddha non lo siamo diventati ma possiamo diventarlo certo beh la fede fa la differenza la fede uno può credere ma la fede tu credi va bene prima del Big Bang non esisteva questo tempo però non è detto che prima del Big Bang se c'è stato un Big Bang se c'è stato un Big Bang non ci fosse stato un Big Crunch prima del Big Bang perché la teoria del Big Bang prevede che prima del Big Bang potrebbe esserci stato un Big Crunch quindi con un altro tempo un altro universo che è collassato e quindi è finito quel tempo lì è nato un nuovo tempo in un Big Bang che finirà in un Big Crunch uno o più potrebbero essere infinito nella teoria del multiverso ce ne sono infiniti ce ne sono infiniti degli universi quindi il Big Bang beh è solo una teoria sì l'hanno sperimentato un po' che i buchi neri non è detto che sia però la quantistica ad esempio sta andando verso la teoria del multiverso cioè la teoria del multiverso è la teoria dei molti mondi quindi un'infinità tra virgolette di possibilità quindi esiste un mondo dove voi non siete mai nati esiste un mondo dove Hitler ha vinto la guerra esiste un mondo dove Napoleone ha vinto a Waterloo esiste un mondo dove esistono tanti mondi secondo la teoria dei molti mondi ma allora esiste un mondo dove massimo un milione di iscritti esiste 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 un mondo dove non è neanche un iscritto esiste un mondo dove non siamo mai nati sì esiste è la teoria del gatto di Schrödinger cioè se tu sei dietro un'auto e puoi decidere se superarlo o meno se muori esiste un mondo in cui fai un incidente e muori è un mondo in cui sei vivo però diciamo questo che tornando al pensiero spirituale il percorso spirituale è un pensiero di crescita interiore di eliminazione dei veleni mentali fondamentalmente mentre il mentre la religione sono un po' le regole da seguire per le indicazioni diciamo così da seguire per questo percorso spirituale e sono indicazioni un po' diverse e l'istituzione religiosa è diciamo l'istituzione religiosa è l'istituzione va bene direi che a questo punto possiamo veramente finire perché una live così lunga non l'ho mai fatta e sono già la mezza vabbè che è sabato sera quindi buonanotte a tutti buonanotte me ne vado chiudiamo sta live che è lunghissima oggi mega live quindi un saluto a tutti namaste riconosco la divinità che è in te vi ricordo ancora gli appuntamenti Torino venerdì 22 febbraio milano domenica domenica 3 marzo roma domenica 7 aprile il riferimento è il 333 15 11 703 buonanotte a tutti baghera papa isabella cancelliere simona rana saluto a tutti terra piattaro viviana letizia la nefilim passion sonia topazio francesca isabella mi riguardo mi riguardo adriana paratore grande adriana bravissima dj radio dj buonanotte a tutti letizia tatitati non so se c'è tania grandi tania grandi se la mettiamo in serie alla nefilim a vittoria vinca ecco vedete tania grandi vittoria vinca sono diciamo la gigantessa e la nana messe assieme e divise in due fanno due donne di altezza normale alessandro papa esatto la tua matriosca se le mettete se le mettete una in testa all'altra vi dividete dovete amalgamarvi vi dividete in due e venite due di altezza normale due di altezza normale la nana bianca e la nana bianca e la gigante rossa abbiamo la gigante rossa e la nana bianca vittoria vinca e la e tania grandi la nana bianca e la gigante rossa va bene un saluto a tutti Elisa Molino Elisa Molino io saluto e lui mi salta Elisa Molino ti sto salutando come ti salto Elisa Molino Elisa Molino ti salto niente Elisa Molino Elisa Molino adesso lo dico 50 volte entro in trip Elisa Molino Elisa Molino Elisa Molino Francesca Asia dimentiché ho qualcuno ma non lo faccio apposta Letizia Marco Francesca Sonia Terra Pietaro Elisa Molino di nuovo Letizia Asia Betty Betty Kotick Maria Marzia buonanotte Baghera La Pantera Patrizia Guida Maria poi Adriana insomma saluto tutti buonanotte a tutti a domani Carampana Rap salutiamo tutti con la Carampana Rap salutiamo vi saluto così Zitta 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 canette a scuccia Sizz Blast Sizz Blast Sizz Zitta No contact Zitta 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 Canette a scuccia Sizz Blast Sizz Blast Sizz Zitta Ciao a tutti buonanotte dopo il Canetti Rap buonanotte a tutti ciao a tutti sì